Benvenuta, coinquilina! Ancora non riesco a credere che vivrò qui! Wow, avete un cactus con la faccia! Che carino! E il bambolotto di Darkseid! È adorabile! Oh, questo posto è incredibile! Voi vivete insieme da così tanto, spero di ambientarmi. Oh, ti ambienterai? E come? Perché adesso sei un titan a tutti gli effetti! Niente potrà rompere questo vincolo! È magnifico! Io ti ho preparato una sorpresa di benvenuto molto speciale! È un asciugamano! Che classe! E ci ha anche ricamato sopra le tue iniziali! Oh, ti ringrazio, Bibi! È così! Sparco! È stato già usato! Ha un odore terribile! Un attimo! Questo non sarà mica il tuo asciugamano! Nel B più il B... Vergogna! Non è carino, amico! Ma scherzate! L'asciugamano è in ottime condizioni! Non l'ho mai nemmeno lavato! Spero non significhi che abbiamo fatto una cattiva impressione! Io non faccio altro che dire a tutti... La prima impressione è quella che conta! Ma qualcuno mi ascolta? Secondo te no! Certo che no! Perché mai dovrebbero! Sono solo il leader! Sono il convinto che ti troverai bene con noi! L'abbraccio! Grazie, ragazzi! So già che mi piacerà stare qui! E vi prometto che non vi creerò alcun problema! Uh, bene! Perché la torre non potrebbe reggere altri coinquilini mostruosi! Brute esperienze con altri ospiti? No! E chi sono i coinquilini mostruosi? Noi! Beh, se noi avremmo una comunicazione aperta e leale, andremo d'accordo! Comunicazione aperta e leale? Non è il nostro forte! Qual è la mia stanza? Come dici, scusa? La stanza? Sta già cominciando ad avanzare pretesi! Oh, oh! Ci avrei scommesso! Non aveva detto che non ci avrebbe creato alcun problema? Mi servirà un posto per dormire? Beh, se proprio intendi insistere sulla tua sistemazione, in effetti ci sarebbe una stanza che non stiamo usando! Oh, ma il certo! Quello è il posto perfetto! Ne sarai entusiasta! Eccola! Casa dolce casa! È un reattore nucleare? Naturalmente! Non lo trovi il caldo e l'accogliente? Non pensate che sia pericoloso qui? Non essere ridicola! No, perché mai? Che cosa? Vorrei scherzare! Volete dire che è perfettamente sicuro? Non devi toccare il reattore! Non ci sarebbe un'altra stanza? Cosa? E perché? Questa non è di tuo gradimento? Wow! E saremmo noi quelli difficili? No, davvero! Mi ha dato ovunque! Dormo nella dispensa! Certo, ma ci ho fatto la pipì! Allora nel ripostiglio! Ho fatto la pipì anche lì! Nella vasca? Indovinato! L'ho fatta anche qui! Anche qui! E anche lì! L'ho fatta lì sopra! Anche là! E là dietro! E là dentro! Qui andrà bene! Allora, mettiti pure comoda! E se ti servisse qualcosa, per favore, non esitare a tenerlo per te! Buonanotte! Buonanotte!